Ragionieri, non coglioniamo, va! Cioè, tu mi vuoi dire che in quattro anni abbiamo guadagnato solo questa miseria? Dai, dai, va, non scherziamo, va, dai, dai, per piangere, va! È poco, e poi, sacco, tutte le difficoltà che abbiamo avuto... Ma che difficoltà? La crisi, le tasse... Tasse! Non nominare mai più quella parola in mia presenza, ma che tasse tasse? Ma, signor Cetto, io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare, ma non destare sospetti, capito, no? Un po' di tasse. Dobbiamo pagare, mi creda. Tasse? Ma, signore, ma che sta succedendo qua? Uno manca quattro anni e siete usciti tutti di testa. Ragionieri, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Che a tasse non se ne pagano, caccio, caccio! Ah, tutta la mente per la tasse? Guarda, qui sono arrivate ad arrestare un gentiluomo, un garantuomo, solo perché ha sparato al vicino. E non è che si chiedono se questo vicino è un infame, è un caino. Ma veramente? E com'è possibile? Se ti dico che è possibile, te ne dico una. Hanno sequesciato alcune terre di amici carissimi e le hanno date ai preti. Beh, o non è una vergogna? Cos'è da pazzi? È anarchia, va? E non è tutto. Adesso stanno indagando sulle proprietà cosciute senza permesse. E anche il tuo villaggio, la pizzeria e tutto il resto non sono al sicuro. Questi si attaccano a tutto. Questi non c'hanno vergogna. Ma questi chi sono? Voglio nome, cognome e soprannome. Polizia, carabinieri, finanze, belle arti, tutti quanti. E ovviamente Cavallaro. Il caro tenente ficca il naso dappertutto e va dicendo che questa volta andrà fino in fondo. Cosa vuole che faccia Cavallaro? Se vuole andare fino in fondo che vada a cossi su mangi dei pesci, il collezionista delle dicevute. Non è solo. Signor Cetto se lo ricorda De Santis. Maestrino, l'uomo rispettoso delle regole, tutte quelle cazzate. Sì, me lo ricordo. De Santis vuole scendere in politica. Si candida al sindaco. E ce la può fare. Va bene. Cetto, è un uomo senza vergogna. Si è schierato completamente dalla parte della legge. Schierarsi a favore della legge? Sì, ma è legale questa cosa? Pare di sì. E se quello diventa sindaco? Il paese è a rischio legalità. Cetto, qualcuno deve fermare il De Santis. Noi ci abbiamo pensato. È a lungo. Siamo arrivati a una conclusione. Che sarebbe? Tu. Tu devi essere il nostro sindaco. Io sindaco? Sì. Così dite? Sì. Mesco, ho bisogno di riflettere. Sì. 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 Grazie.